Vengo qua a pranzo per risparmiare un po' a casa, perché con 500 euro fanno presto partire e a casa si mangia solo la sera, è un po' di risparmio. Questa è la mensa dell'Antoniano di Bologna, una onlus che offre un pasto caldo alle persone in difficoltà e lei è Mara, una pensionata di 69 anni che tutti i giorni si mette in fila con i senza tetto e i profughi per mangiare. L'ho sempre fatto l'abbadante, dopo una vita di lavoro sono andato in pensione e ho trovato casa assieme a un ragazzo, ci dividiamo le spese, paghiamo 550 d'affitto. Con 500 euro al mese di pensione, Mara è costretta a risparmiare sul pranzo e a fare sacrifici e rinunce. Ho voglia di andare a prendermi un caffè al bar? No, perché le costo un euro, un euro mi serve dall'altra parte. Vedo le pastine, devo rinunciare. Si fa tanta fatica, ma le voglie le dobbiamo lasciare da una parte. Secondo i dati della Caritas, 4 milioni e mezzo di italiani vivono in condizioni di povertà assoluta. La percentuale rispetto al 2007, l'anno della crisi, è più che raddoppiata, passando dal 3% al 7%. Nel capoluogo emiliano il 64% dei pasti sociali è per gli italiani. Ci sono nuovi poveri italiani, soprattutto quelli italiani che a una certa età, oltre i 50 anni perdono il lavoro e per una serie di cause non riescono più a reinserirsi nel mondo del lavoro. Ho vissuto anche in strada, ho vissuto dentro la stazione, era bruttissimo, a parte che non si dorme. La gente che aspetta che deve prendere il treno, gli ubriaconi che vengono dentro. Mi posso ritenere fortunata, perché finalmente ho trovato una casa. Sento tanto male, qua c'è una ferita.